Wow! Che diavolo è? È un mitra a gas, il mitra del calabrone. Un mitra a gas? Sì. Perché non un mitra a mitra? I nemici hanno mitra a mitra, ma non capisco. Ma che sono queste? Che cos'è questo? E' questi i proiettili di vernice? No, dentro c'è gas narcotizzante. Roba da pazzi. Così sembri più fico. Devo sembrare più fico, quindi? Ma che cavolo? Hai pure detto che ho un costume da pappa. Ho pensato che era una parola strana per te, pappa. Ma l'hai detta, hai detto proprio pappa. È da pappa? Sì. Quel mitra è solo un accessorio. Un accessorio? Sì. Allora ti serve un nuncià, così. Se non ti piace, non lo usare. No, aspetta, come funziona? Cazzo! Ehi. Ehi, ehi, ehi. Ok, funziona.